Musica Avevano fatto collezione di verbali negli ultimi 5 anni per analoghe ed appurate evasioni al fisco. Così l'operazione coordinata dal comando provinciale della Guardia di Finanza ha portato alla chiusura temporanea di ben 24 esercizi commerciali su tutto il territorio brindisino. Il blitz anti-evasione ha visto impegnate le fiamme gialle del capoluogo nonché i comandi di Fasano sotto la direzione di Francesco Calimeno, Ostuni diretto dal capitano Antonio Martina e Francavilla Fontana con a capo Antonio Trigiani. Diverse le tipologie di attività commerciali coinvolte da ristoranti a fiorai a negozi di abbigliamento nonché una decina di attività ambulanti. Da Ostuni a Celle Messapica da Fasano a Torre Santa Susanna passando per la città degli Imperiali dove ben otto sono state le notificazioni effettuate dai baschi verdi dopo una serie di accertamenti e controlli eseguiti dall'inizio dell'anno.